La nuova Pescara al centro del dibattito aperto da Luciano D'Alfonso, una città non solo più grande ma che faciliti la vita delle persone. Gio Mileti ufficializza la candidatura a sindaco di Termoli, spero di aggregare le forze del centrosinistra. La commozione in Abruzzo e in Molise per le sentite e partecipate processioni del venerdì santo. Il NAS ha controllato 35 aziende in tutto l'Abruzzo riscontrando 25 violazioni per carenze igienico-sanitarie in forni, pasticcerie e panifici. Uomo di 80 anni trovato morto nella sua casa di Colle D'Anchise. Indagata la conducente del pulmino con a bordo persone disabili finito in una scarpata ad Alfedena. Il Campobasso tornerà al lavoro lunedì per preparare la sfida interna con il Riccione. Basket la Magnolia Under-19 e campione d'Italia. Buonasera e bentrovati con la nostra informazione. In apertura c'è la politica, una città non solo più grande ma che faciliti la vita delle persone. Questo uno dei concetti espressi nel dibattito sulla nuova Pescara svoltosi nell'Officina delle Idee dell'Onorevole Luciano D'Alfonso. Presenti anche l'ex candidato governatore Luciano D'Amico e altri docenti universitari. Valentina Ciarlante Non un semplice upgrade di Pescara. La città che nascerà ufficialmente il 1 gennaio 2027 frutto dell'unione con Monte Silvano e Spoltore dovrà essere un concentrato di opportunità, valorizzare beni preziosi come acqua e aria e contemperare nuovi diritti e doveri. Per Luciano D'Alfonso dovrà agevolare la vita dei cittadini e proprio per questo ha inteso aprire un dibattito nella sua officina in Via dei Marrucini a Pescara alla presenza di docenti universitari quali Federico Gualandi, Marcello Salerno e Luciano D'Amico ex candidato governatore di consiglieri regionali e comunali della sindaca di Spoltore Chiara Trulli. Pescara di recente è stata eletta dal sole 24 ore tra le prime 5 città italiane in cui si vive meglio grazie al clima e per il deputato del PD occorre partire proprio da qui ma a crescere di idee il progetto e lavorare sullo statuto. Noi vogliamo che in questa città per esempio il cittadino possa partecipare con facilità al processo deliberativo della macchina comunale abbia il diritto per esempio all'istituto del recall per giudicare la vita di un assessore sul piano della sua utilità deliberativa. Non c'è più la distinzione tra cittadino tradizionale, residente e cittadino quotidiano che viene magari per alcuni giorni a intessere i suoi rapporti con questa città. La città nuova deve essere capace di diritti nuovi, accanto a doveri nuovi. Scriviamo insieme questo patto nuovo, questo nuovo contratto sociale. Ed ora ci spostiamo in Molise, ci occupiamo di amministrative. Gio Mileti ha deciso di candidarsi ufficialmente a sindaco di Termoli. Il suo obiettivo resta quello di provare a tenere unito il centrosinistra. Franco De Santis. Dal Castello Svevo ho deciso di rinnovare il nostro amore per Termoli e per i cittadini attraverso una mia candidatura a sindaco che da oggi è ufficiale. Queste le parole di Gio Mileti che tra pochissimi giorni presenterà il suo movimento, fonte di aggregazione e di condivisione sociale, culturale, politica, un movimento aperto a tutte le donne e uomini che credono nella rinascita di Termoli e che credono in questa città, sottolinea. Per il candidato sindaco della cittadina adriatica esisteva ed esiste ancora la possibilità concreta di una forza aggregante di tutto il centrosinistra, forza capace di contrastare il centrodestra e di vincere le elezioni del 8 e 9 giugno. Mileti si dice pronto al dialogo e a soluzioni condivise all'interno della compagine progressista per valutare il peso e la qualità delle forze in campo, ma soprattutto con l'obiettivo di realizzare una vera e propria rinascita della città di Termoli, aggiunge. Sono quindi a disposizione di tutte le forze del centrosinistra che mostrino e dimostrino la volontà di voler partecipare per vincere, che mostrino e dimostrino una mentalità vincente per il bene comune, unico e vero obiettivo che io personalmente mi sono posto pronto a condividere e a ricevere qualsivoglia contributo della società civile e delle forze politiche, conclude Gio Mileti. Per ribadire quello che è stato ed è sempre il mio intendimento, ossia il bene del comune di Termoli, della città di Termoli, dei cittadini, attraverso una mia partecipazione attiva con il mio movimento, la mia lista civica indipendente, con la forza, la voglia e la capacità, spero, di poter essere aggreganti di tutte le forze, quantomeno del centrosinistra, che abbiano chiaramente la volontà di condividere il mio percorso, il mio programma, il mio modo di vedere quello che sarà il futuro di questa città e spero che venga condiviso non soltanto dalle forze politiche, ma anche e soprattutto dei cittadini. L'onorevole Elisabetta Lancellotta ha avviato interlocuzioni con il governo e le strutture tecniche al fine di sollecitare la conferma del superbonus 110% in termini di sconto in fattura e cessione del credito per la ricostruzione delle zone terremotate del Molise. Ho tenuto a rappresentare anche questa mattina la situazione al sottosegretario al MEF, onorevole Lucia Albano, annunciato la Lancellotta, per evidenziare l'importanza e la necessità per il cratere molisano di poter e dover continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come è stato fatto per altre aree dove sono in corso le rispettive ricostruzioni post-sisma, soprattutto per la conseguente accelerazione dei cantieri e della ricostruzione dei territori colpiti che ciò comporterebbe, ha precisato la deputata di Fratelli d'Italia. Ed ora apriamo l'ampia pagina dedicata alla processione del Venerdì Santo, manifestazioni sia in Abruzzo che in Molise, partiamo proprio dal Molise, in Migliaia per le strade di Campobasso per la processione del Venerdì Santo, il Teco Vorrei riecheggia tra le vie del capoluogo di Regione davanti al carcere il momento cardine della manifestazione. Sentiamo. Grazie a tutti Le note del Teco Vorrei intonate da circa 700 cantori guidati dal maestro Antonio Colasurdo riecheggiano per le strade di Campobasso. La processione del Venerdì Santo è l'appuntamento più sentito in città, oltre al Corpus Domini. Ogni angolo del capoluogo di Regione è riempito dalla gente in attesa. Mi emoziona vedere questa processione tutti gli anni, mi emoziona vedere Gesù, la Madonnina e proprio in questo posto che è il carcere, vicino al carcere, è ancora più emozionante. È una delle processioni più belle del Molise, siamo qui anche da Agnone per vederla, per respirare un'area di sacralità, perché la processione del Venerdì Santo è soprattutto sacralità. Al di là del Teco Vorrei c'è proprio lo spirito di partecipazione a un evento che è veramente sacro. Il momento cardine della processione del Venerdì Santo davanti al carcere. Queste mura oggi si lasciano attraversare dal canto del Teco Vorrei e anche dalla vicinanza della cittadinanza nei confronti di tutta l'istituzione carceraria, per chi lavora e per chi dentro è recluso. Toccanti le parole del detenuto che come ogni anno spingono alla riflessione e aprono il cuore di chi li ascolta. Maria, che sotto la croce guardi negli occhi il Cristo, oggi potrei parlarti di tante cose brutte che succedono qui dentro e di come le affrontiamo, ma non vogliamo parlare di tecnici. Ci sono nel mondo situazioni molto più pesanti degli anni che le nostre condanne. Ci sono in Italia, in altri penitenziari, tanti detenuti che si suicidano, ci sono tante donne che vengono maltrattate e uccise e soprattutto ci sono gli orori delle guerre nel mondo. Uniamo le nostre preghiere perché possano toccare il cuore di chi non sente più il dolore dell'umanità. Messaggio alla città di unione e di speranza da parte dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Viaggio Colaiani alla sua prima processione del Venerdì Santo. Davanti alla croce di Gesù tutti abbiamo sbagliato, per paura come Pietro, per il male che alberga nei nostri cuori e del quale non ci siamo ancora liberati. Il Signore ci apre alla Pasqua. Anche noi possiamo essere capaci di piccoli gesti, ma concreti, che diano vera speranza di vivere meglio nella serenità e nella pace. Lo Spirito Santo ci darà la forza perché ciò sia possibile e perché ognuno di noi possa rinascere insieme ad ogni fratello. E migliaia di persone anche a Chieti per la più antica processione del Venerdì Santo d'Abruzzo. Preghiera e riflessione sulle note del miserere Valentina Ciarlante. Folla, silenzio e commozione a Chieti per la processione del Venerdì Santo. 30.000 persone, questa una prima stima, sono accorse in città per assistere all'antichissimo rito che ha preso il via dalla cattedrale di San Giustino e dalla rinnovata piazza. L'atmosfera è stata resa ancora più emozionante dai 150 cantori che hanno intonato il miserere di Selecchi lungo l'intero percorso che si è snodato tra le vie del centro. Come da ormai otto secoli l'evento viene organizzato dall'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti che porta in processione le statue del Cristo morto e della Madonna e i simboli della passione. L'arcivescovo di Chieti, Monsignor Bruno Forte, nella messa che ha preceduto l'uscita della processione, ha rinnovato il suo appello alla pace. Restiamo a Chieti, sentiamo tutta l'emozione di una serata dedicata alla preghiera nelle parole dei cittadini e delle istituzioni. Per i teatini la processione del venerdì santo è un appuntamento irrinunciabile. La notte col sentimento più alto e presente dell'anno e viverla in una piazza suggestiva, imponente e finalmente aperta, quale quella dedicata a San Giustino, è stata un'esperienza di certo indimenticabile per tutti. Di dove siete? Da dove venite? Silvano. È la prima volta a vedere questa processione? È la prima volta, sì. È molto emozionante, è una processione che ha una simbologia molto particolare, una tradizione antichissima. Qual è la particolarità di questa processione che richiama migliaia di persone? È molto suggestiva, è una delle più antiche d'Italia, quindi poi c'è il miserere che è bello importante. È un momento di raccoglimento per tutti quanti con questa bellissima manifestazione che si ripete ogni anno. Io sono una chietina ad hoc, quindi questo per me è super. È così caratteristico, originale, poi è bello anche farlo vedere ai giovani d'oggi. Per voi è la prima volta? Sì, è la prima volta. Di dove siete? Di Pescara, Pescara 6. È molto emozionante e riporteremo ciò che vedremo quando torniamo. E voi di dove siete? Del posto? Chieti, chieti, nativi. Ma qual è la bellezza di questa processione? È dal 600 che si fa, non possiamo mancare. È anche un modo per incontrare questi amici che magari vivono fuori e quindi si rivede. 40.000 alle presenze, il dato aggiornato è stato reso noto dal sindaco Diego Ferrara e dal vice sindaco Paolo De Cesare che hanno definito la serata un abbraccio alla città. È un momento veramente identitario, di profonda religiosità ma anche di profonda identitarietà del popolo chietino. Centinaia di volontari al lavoro e decine, gli uomini delle forze dell'ordine, per una serata in cui tutto ha funzionato alla perfezione e che nemmeno il presidente Marsilio ha voluto perdere. Serata bellissima, serata magica nella piazza restituita ed è veramente una bella occasione, una bella cerimonia che si rinnova ormai da un tempo indefinito. Attività commerciali aperte su invito dell'amministrazione comunale, come ha evidenziato l'assessore Emanuele Pantalone. Siamo felici di vedere una grande partecipazione, abbiamo veramente fatto in modo che tutto potesse funzionare al meglio cooperando con l'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti e con l'arcivescovo. Il noto economista Alberto Bagnai, deputato eletto in Abruzzo, ha rilanciato l'appello dell'arcivescovo Bruno Forte. Il silenzio di Dio di fronte al dolore degli uomini ci ha guidato con le sue parole a interpretarlo e a trovare in esso i motivi di una fede e di un impegno rinnovato per la pace. La processione del Venerdì Santo a Disernia ancora una volta si è dimostrata un evento di fede e devozione popolare. La caratteristica della processione di Disernia riguarda i caratteristici incappucciati, penitenti ed è resa commovente dalle musiche e dai silenzi luttuosi. Il corteo religioso ha percorso tutta la città riscuotendo una partecipazione da parte della popolazione davvero numerosa. Il servizio è a cura di Pasquale Damiani. Isernia si è fermata in un'atmosfera unica nel silenzio della fede per la rievocazione della passione di Cristo per il tradizionale evento religioso che unisce e coinvolge l'intera città. Sin dal pomeriggio la chiesa di Santa Chiara è stata presa d'assalto dai tanti portatori delle statue del Cristo morto e della Madonna, i cosiddetti incappucciati che ogni anno si trovano quasi per un atto di fede nei confronti della Madonna e del Cristo morto. In tanti hanno salutato con calore e commozione l'uscita del Cristo morto e della Mater dolorosa dalla chiesa di Santa Chiara e così ha preso il via la processione del Venerdì Santo. La caratteristica della processione di Isernia riguarda gli incappucciati penitenti che oltre a portare la Madonna e il Cristo morto portano i busti degli Ecce Homo, le Cruci Calvario e le Cruci della Via Crucis. Le dodici confraternite curano ogni dettaglio e sono distinguibili per il colore delle mozzette ed ognuna ha un ruolo ben preciso. A seguire i membri dell'associazione e la fraterna e poi le autorità civili. Una folla copiosa ha seguito il rito nelle strade della città, un dramma riovocativo della morte del figlio di Dio, persone di tutte le età hanno chiesto protezione al Crucifisso in un tempo ancora segnato dai conflitti, dal bisogno di pace e da molte altre difficoltà. La processione ha ancora una volta riunito la popolazione iserniana nella fede, rinnovando così una secolare tradizione. Una rappresentazione organizzata ogni anno dalla confraternita del Santissimo Sacramento in modo scrupoloso. Alcune donne si tramandano di madre in figlio il segreto della vestizione del Cristo e della Madonna, adornando di fiori le figge in gesto del Gesù, posto supino sul letto di morte, pieno di laceranti ferite, e la statua della Mater Dolorosa, commestito nero con il cuore ferito da sette spade che rappresentano i sette peccati capitali. La processione degli incappucciati di Isernia è uno dei riti più suggestivi, un rito che ha richiamato tante persone non solo dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe. Solennità e tradizione si incrociano nella suggestiva processione del Venerdì Santo all'Aquila dal 1954, alcune vie toccate dal corteo con ancora i segni evidenti delle ferite inferte dal terremoto, ma con la fiduciosa speranza dimostrata dalla calorosa partecipazione dei cittadini. Sabrina Giangrande. Tradizionale e suggestiva la processione del Venerdì Santo all'Aquila con i simulacri realizzati dall'artista Remo Brindisi, con partenza dalla Basilica di San Bernardino. Un rituale che si sussegue dal 1954, anno della prima edizione del Venerdì Santo moderno. Sì, quando venne qui all'Aquila un frate da Chieti, al secolo Nicola Roccioletti, che si fece chiamare Frassalvatore, pensò di importare qui all'Aquila questa tradizione che invece a Chieti era molto più antica. E fra le altre cose portò dietro anche il miserere di Selecchi, o Selecchia, poi nobilitato in Selecchi, che però qui all'Aquila è stato eseguito poi dal coro Gran Sasso, storicamente, diretto dal compiando maestro Paolo Mantini, a voci miste. Maestro Mantini fece una trascrizione a voci miste, mentre a Chieti il coro è un coro maschile. E devo dire che questo momento è un momento non soltanto carico di spiritualità, ma un momento che rappresenta un valore aggiunto per la coesione sociale di questa città così martoriata. Insieme alla cantata di Natale, che lo stesso facciamo insieme tutti gli anni, ormai da 40 anni. La Polizia Penitenziaria per la prima volta scorterà il Cristo morto. Sì, per noi il corpo della Polizia Penitenziaria è veramente una bellissima opportunità. Ne approfitto per ringraziare l'Associazione dei Cavaliere del Venerdì Santo, che ha deliberato appunto di affidare al corpo di Polizia Penitenziaria questa prima volta. Per noi è veramente un grande onore, una grande opportunità, anche di far conoscere quello che è il nostro corpo, le nostre peculiarità ed anche i nostri reparti, anche per, come dire, portare alla luce quello che è appunto il nostro tipo di lavoro, il nostro difficile lavoro, spesso sconosciuto da parte dell'opinione pubblica. E ricordo anche a tutti che domani, a partire dalle dieci e mezza sulla nostra rete, ci sarà la messa, sarà trasmessa la messa nella Cattedrale di Isernia. Quindi ricordo a tutti questo appuntamento. Intanto chiudiamo la pagina dedicata alle manifestazioni religiose del Venerdì Santo con il messaggio del Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Sentiamo tutto nel servizio di Chiara Bonatti. Dopo la passione del Venerdì Santo, arriva la giornata della riflessione, quella del sabato, in cui si attende la resurrezione, quindi il giorno di Pasqua. Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramoatri, fa gli auguri alla comunità che si appresta a vivere la lunga notte che porta la domenica di Pasqua. In un panorama belicoso, gli auguri del Vescovo si soffermano sulla pace e la serenità. L'invito è quello di spingersi, oltre alla tradizionale festa, che si augura possa essere di speranza nel costruire la pace per tutti i popoli. Credo che quest'anno l'annuncio della risurrezione sarà veramente la grande prospettiva per il futuro di l'umanità. Tante volte abbiamo vissuto l'esperienza della Pasqua come un evento tradizionale, un evento legato al passato. Dobbiamo riscoprire che con l'annuncio della risurrezione nel giorno di Pasqua il risorto continua e vuole continuare a camminare con noi. Ed è per questo che è molto importante che tutti i battezzati, tutta la Chiesa, si faccia carico di dire a tutti che Gesù non è rimasto nella tomba. La tomba è vuota e di lì è nata la speranza per l'umanità. Possiamo costruire un mondo migliore perché il risorto cammina con noi. Ed ora apriamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca. Il NAS ha controllato 35 aziende in tutto l'Abruzzo e ha riscontrato 25 violazioni per carenze igienico-sanitarie e strutturali in 25 appunto forni, passiccerie e panifici abruzzesi. I dettagli nel servizio di Franco De Santis. Controlli a tappeto su tutto il territorio abruzzese da parte del NAS in prossimità delle festività pasquali. Monitorati forni, panifici e pasticcerie con 35 controlli in totale distribuiti su tutte le province. Violazioni sono state riscontrate in 25 aziende per carenze igienico-sanitarie e strutturali nei laboratori di preparazione dei prodotti da forno e pasticceria fresca e secca. Riscontrate presenza di muffa alle pareti, ragnatele e infiltrazioni, sporco vetusto, manutenzione carente nonché omesse informazioni ai consumatori in tema di ingredienti e allergeni. In alcuni casi sono stati operati sequestri di alimenti per mancata tracciabilità e con l'intervento del competente servizio IAN dell'ASL per alcune imprese alimentari sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività e blocco ufficiale di alimenti. In particolare nel pescarese sono state rilevate carenze igienico-sanitarie e documentali e nelle informazioni a consumatore in tema di allergeni e ingredienti e omessa attuazione, procedure, autocontrollo. In un caso è stato adottato provvedimento di sospensione dell'attività di laboratorio di pasticceria perché non autorizzato, mentre in due casi si è proceduto al sequestro di prodotti tipici pasquali per assenza di tracciabilità. Nell'Aquilano carenze igienico-sanitarie strutturali e gestionali e utilizzo di locali non autorizzati. In un caso è stata disposta la sospensione dell'attività di un laboratorio di pasticceria per carenze igienico-sanitarie. Nel Chietino infrazioni connesse a problematiche di carattere igienico-sanitario. In due casi è stata sospesa l'attività di un laboratorio di pasticceria e di un forno. Nel Terramano, infine, stessi problemi e omessa attuazione delle procedure di autocontrollo di tracciabilità. Disposta la sospensione di un deposito alimenti per carenze igienico-sanitarie, mentre in due casi sono stati adottati provvedimenti di blocco ufficiali e sequestro di prodotti dolciari non tracciati. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per lesioni stradali gravi iscrivendo sul registro degli indagati la conducente del pulmino dell'Anfas che trasportava un gruppo di disabili finito il 28 marzo in una scarpata. Sono due i pazienti ricoverati in prognosi riservata, attualmente in decenza, negli ospedali di Sulmona e dell'Aquila. Entrambi hanno riportato traumi al torace e al volto. Le condizioni di salute sono gravi, ma le persone non sono in pericolo di vita. Per gli altri, inclusi l'autista e un accompagnatore, la prognosi varia dai 10 ai 15 giorni. Il mezzo di trasporto è stato sequestrato per consentire gli accertamenti tecnici. Il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha inviato un messaggio di pronta guarigione. Stavamo rientrando a casa e ho perso il controllo all'improvviso, forse è stato un guasto meccanico? Ha dichiarato la conducente ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. E ancora raffica di furti a Disernia. Ieri sera i ladri hanno preso di mira la parte residenziale della zona San Lazzaro. Diverse le intrusioni nelle villette, nelle immagini che vedete. Una casa messa a soquadro dai malintenzionati, cassetti ribaltati, vestiti a terra, tutto sotto sopra. Evidentemente per la speranza dei ladri di portare un bottino a casa, fortunatamente l'allarme e le telecamere hanno messo in allerta i malintenzionati che sono fuggiti. A Disernia richiesta di maggiori controlli legata alla paura dei cittadini. E ci spostiamo in Abruzzo, tragedia a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato ieri sera agonizzante nella sua camera con una cintura stretta al collo. Ed è morto poco dopo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori. Sul caso è stato aperto un fascicolo dal PM Francesca Zani della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno intanto sequestrato il PC del ragazzo. Non è chiaro infatti se si tratti di un gesto volontario o dell'esito in fausto di un gioco legato alla partecipazione a videochat. Il medico legale a un primo esame del corpo non ha rilevato segni di violenza esterna. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Teramo. Nelle prossime ore il magistrato potrebbe decidere se affidare l'autopsia. E ci spostiamo a Colle d'Anchise. Un uomo di 80 anni è stato trovato morto in casa. Alessandro Adamo. Dolore a Colle d'Anchise, piccolo centro abitato della provincia di Campobasso, dove ieri è stato ritrovato in casa il cadavere di un uomo di 80 anni. Di lui non si avevano più notizie da lunedì, quando è stato visto per l'ultima volta in paese. Ieri è la telefonata dei vicini al sindaco preoccupati dell'assenza dell'uomo. Il primo cittadino, Carletto Di Paola, ha avvertito le autorità, pronto l'intervento dei vigili del fuoco di Campobasso e del comando dei carabinieri di Boiano, del comandante Edgar Biga. Una volta entrati in casa non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo trovato sulle scale, probabilmente colto da malore tra martedì e mercoledì. L'uomo che viveva solo era molto conosciuto in paese. Se in casa non sono stati registrati segni di effrazione, è stata effettuata un'ispezione cadaverica, ma non verrà effettuata l'autopsia. Già disposti i funerali che si terranno martedì 2 aprile alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Colle d'Anchise. E restiamo sulla cronaca perché sta facendo parlare la notizia per la quale Francesco Schiavone, detto Sandokan, abbia deciso di pentirsi. L'ex boss dei Casalesi è in carcere all'Aquila dal gennaio del 2023, che si sia unito alla schiera dei pentiti. Lo avrebbe confermato anche la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale della Procura di Napoli. I colloqui sarebbero iniziati alcune settimane fa, Sandokan è stato per quasi 10 anni, dal 2014 al 2023, nella sezione 41 bis del carcere di massima sicurezza di Parma, dove potrebbe essere affiorata l'idea di pentirsi. Poi concretizzatasi nel penitenziario Aquilano, in cui è stato recluso anche Matteo Messina Denaro. Il boss dei Casalesi è arrivato all'Aquila nel gennaio del 2023, anche lui nella sezione 41 bis come Messina Denaro. I militari della sezione operativa dei Carabinieri della Compagnia di Sernia hanno arrestato un cittadino di origine nigeriana, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione di polizia, svolta nell'ambito di servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione, il ragazzo è stato sorpreso nel cedere dosi di hashish ad una giovane sernina in campio di 50 euro. Immediatamente bloccati e perquisiti dai militari, il pusher è stato trovato in possesso della somma di denaro appena ricevuta, mentre l'acquirente identificata e perquisita è stata trovata in possesso delle dosi appena acquistate ed è stata segnalata alla prefettura di Sernia. La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono state sottoposte a sequestro. Ed ancora cronaca perché i Carabinieri di Termoli hanno arrestato un 26enne residente a Cerignola accusato di una serie di reati, tra cui resistenza pubblico ufficiale, rapina impropria, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Aveva rubato un'auto a vasso, rintracciata, appetacciato dai Carabinieri che hanno dovuto seguire il 26enne alla guida per una ventina di chilometri fino a Campomarino dove il malvivente ha speronato un veicolo militare mandandola a sbattere contro un guardrail, quindi ha tentato la fuga a piedi. I Carabinieri alla fine sono riusciti a fermarlo. All'interno dell'auto rinvenuti e sequestrati diversi materiali. Il 26enne pugliese è stato trattenuto nel carcere di Larieno in attesa di convalida del fermo. Dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larieno, all'uomo è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel suo comune di residenza. Bene, questa era la nostra ultima notizia, ora spazio alle previsioni del tempo. Scara 14,23, Chieti 12,23, Teramo 10,21 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile per lo più soleggiato, salvo qualche nocu annuvolamento dal pomeriggio. Venti moderati, mari da molto mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso tolla minima ventina massima. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio come sempre per la vostra preziosa attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul nostro sito internet. Ora non cambiate canale perché subito dopo i consigli per gli acquisti ci sarà la nostra pagina sportiva. A tra poco! Ben ritrovati con il nostro TG Sportivo. In apertura il Campobasso Calcio. I Lupi torneranno ad allenarsi lunedì in vista del match di domenica prossima contro il Riccione. Sentiamo le parole del fantasista De Cerchio, protagonista a Fossombrone nell'ultima parte. Ci dice tutto Franco De Santis. Il Campobasso tornerà a lavoro lunedì per tuffarsi nella settimana che porta la sfida a casalinga con il Riccione. Umore non certo dei migliori ma allo stesso tempo la consapevolezza che tutto resta nelle proprie mani. A patto che si torni a vincere domenica prossima contro i Romagnoli per dare la sterzata definitiva a un campionato intenso e logorante. Ripartire dagli ultimi 20 minuti di Fossombrone. È questo il pensiero che guida la squadra e mister Pergolizzi, consapevole che qualcuno deve forse tirare il fiato per fare spazio agli elementi più in forma. A partire da De Cerchio è apparso una spanna sopra agli altri. L'obiettivo Serecci si avvicina con l'assottigliarsi delle giornate. Nelle prossime due partite si delineerà il destino dei lupi. L'Aquila e San Benedettese si affronteranno il 7 aprile al Gran Sasso d'Italia. Poi sarà la volta dei Rosso-Blu al Riviera delle Palme. Come detto, decisivo giovedì per il pareggio del fantasista De Cerchio che analizza così la gara. Potevamo portare a casa questa vittoria. Però non è da colpabilizzare nessuno perché i ricorri li sbaglia soltanto chi li tira. Anzi, per me rimane un amico, un compagno Antonio e chi meglio di lui potevo farlo tirare il rigore. È il nostro bomber, il bomber della squadra e sono convinto che con i suoi gol riusciremo a portare a casa il campionato. Chi entra da panchina si deve far sempre trovare pronto perché il gruppo è fatto da 25-26 persone. Chi gioca, gioca. La cosa più importante è il bene del campo basso. Vincere questo campionato e chi gioca, gioca va bene uguale allo stesso. Abbiamo preso gol su una disattenzione nostra. Manu Gonzalez si è scivolato e si è trovato a tu per tu col portiere. Loro non hanno fatto neanche un tiro in porta. Noi sì, abbiamo tirato in porta, chiaramente non prendendo mai lo specchio. Ci può stare, perché abbiamo pareggiato anche a Fano, a Bastogirardi. Ci può stare, non ci deve stare. Adesso c'è la sosta della Pasqua e la domenica dopo rincominciamo più forte di prima. Grande risultato per l'Under-19 della Magnolia Campobasso che si laurea campione d'Italia conquistando lo scudetto. Sentite. Un nuovo scudetto, il secondo in altrettante stagioni e sempre in ambito giovanile. Dopo il trionfo di Pordenone in Anter-17, la molisana Magnolia Campobasso conquista il titolo tricolore anche in Anter-19. Stavolta battipaglia e con un largo seguito di sostenitori presenti sulle tribune del Palazzauli, anche nella giornata del venerdì santo, tradizionalmente evocata ad eventi di rilievo nel capoluogo di regione ed emozionanti per tutti i riti, gogliardici nello specifico di carattere cestistico legati al successo, ossia il taglio della retina, nonché per l'inserimento di due delle colonne portanti del gruppo rosso-blu nel miglior quintetto dell'evento. Nello specifico Blanca Chinonez, per distacco cifre alla mano, migliore assoluta della competizione e la playmaker Emma Giacchetti. Lo fa al termine di cinque giorni in cui, dopo le vittorie impattanti contro Reier-Venezia e Basket Roma, nella finalissima non lascia adito al Costa Masnaga di creare difficoltà alle rosso-blu con le lombarde davanti solo in avvio, con la tripla che apre il punteggio e poi sempre all'inseguimento con un gap massimo anche di 33 punti, poco prima della fine del terzo quarto, prima di un ultimo periodo dal risultato scontato. Per oggi è davvero tutto, vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet e vi ringrazio ancora una volta per averci scelto.